Allora oggi trattiamo un'estensione del concetto di lista che è quello di lista annidata o tabella che sarà l'oggetto del laboratorio di questa settimana in parte insieme alle liste. Diciamo che il laboratorio di questa settimana e della prossima sono ancora sempre sul tema delle liste, cicli e cose di questo genere in modo da riuscire un pochino a consolidare l'operatività, la ginnastica, il ragionamento su questa che è la struttura dati di base essenzialmente per quello che verrà dopo. Poi nel frattempo invece per quanto riguarda le lezioni andremo avanti sugli ultimi due capitoli che ci mancano che sono quelli dei file e quelli delle strutture dati avanzate e la mia intenzione è quella di concludere il programma della parte di programmazione prima delle vacanze di Natale, in modo che poi nelle vacanze di Natale siate quindi in grado di poter provare tutti i temi d'esame che abbiamo pubblicato, che sono disponibili. In gennaio rimangono due settimane di lezione e in queste due settimane faremo ancora una parte di teoria che è relativa all'architettura del calcolatore, quindi poi c'è una domanda di teoria su questo però mi preferisco posticiparla per riuscire a finire il programma della parte di programmazione e al di là, diciamo così, di probabilmente un paio di lezioni di teoria sull'architettura dei calcolatori faremo solo più esclusivamente esercizi. In quelle due settimane di gennaio non ci sarà, a parte questa piccola parte di teoria non ci sarà più nulla di nuovo se non esercizi fatti insieme, presi tendenzialmente da temi d'esame. L'altra cosa che faremo, e questa dovremo farla già prima della pausa di Natale è faremo un laboratorio, come tutti gli altri, ma però si svolgerà con lo stesso strumento che useremo all'esame, che userete all'esame. All'esame avrete una versione di Visual Studio Code, diciamo così, blindata, bloccata che sta all'interno dell'applicativo di esami del Politecnico quindi entrate in un ambiente, diciamo così, protetto, bloccato dal cui poi potete aprire, diciamo così, una versione di Visual Studio Code limitata, bloccata, in modo che durante l'esame non potete andare a cercare in giro su internet altre cose. Quindi non c'è nulla di speciale, ma conviene fare un paio di esercitazioni che già usino lo stesso strumento che troverete all'esame, così vi impraticchite, vedete se sono dei problemi, capite come funziona, e l'esame non è una sorpresa. Quindi questo sarà online, questo strumento, per cui sia per chi frequenta il laboratorio in presenza, sia per chi non lo frequenta, ma l'invito fortissimo è quello di provarci tutti, ok? Quindi non vorrei evitare che l'esame ci fosse qualcuno che dice ma qua come entro, no? Come si fa ad aprire Visual Studio Code o come faccio a consegnare l'esame, perché sono cose che vedremo in quell'esercitazione, adesso non mi ricordo più se l'ho chiamata la dodicesima, qui ho già messo il calendario di tutto, fino alla fine del corso, chiaramente provvisorio, sì, questo è quel chiamato laboratorio 12, simulazione d'esame, qui l'ho messo a calendario già a gennaio, ma vi farò già vedere come funziona il sistema già prima in modo che anche le vacanze possiate provare. Ok, quindi cominciamo un po' a avvicinarci a vedere il traguardo e quindi, diciamo così, focalizzarsi anche su quegli aspetti lì. L'altra cosa, sempre di tipo organizzativo, prima di entrare sull'argomento di oggi, non si legge ovviamente, ma non si può neanche zoomare, quindi accontentiamoci di questo, il questionario che vi ho fatto, diciamo così, di metà corso, metà corso abbondante, per capire, per avere un pochino il polso di come stanno andando avanti le cose, ci fosse uno statistico che dice, ah beh che bella, questa somiglia alla gaussiana, ma al di là della gaussiana, a me in qualche modo, come dire, diamo tutti, ma amo un pochino di più quelli che sono nella parte bassa di questo questionario, no? Nel senso che chi sta trovando difficoltà, in qualche modo vorremmo cercare di supportarlo meglio, ok? In qualche modo. Qualsia qualche modo richiede sicuramente, diciamo così, uno spunto attivo da parte vostra, da parte di coloro che stanno trovando difficoltà, ok? Magari fatevi domande in più, presentatevi ai tutorati e io sono disponibile, se volete possiamo, diciamo così, anche organizzare delle ore in più in cui ci si trova solo tra persone scarse a fare esercizi insieme, che è un po' quello che fa già, diciamo così, il collaboratore del tutorato, però se vogliamo possiamo, diciamo, rimettere a disposizione, sia io, sia Roberto, sia Lorenzo, qualche slot in più dedicato, no? Semplicemente a proprio fare esercizi insieme a quelli che non vengono, anche quelli semplici, non vergognatemi, non vergogniamoci, non vergognatevi se una cosa semplice non vi viene, perché è di là che bisogna insistere, non bisogna andare avanti a cercare di fare cose complicate se ti mancano le cose semplici, qui purtroppo siamo, nell'informatica è così, costruisci una piramide inversa, si poggia su poche cose e la piramide cresce molto, se ti mancano le cose di base la piramide non può stare in piedi, però questo vi chiederei di farvi vivi e noi, come dicevo, siamo anche in privato, con messaggi privati, in corridoio, come volete, se volete facciamo di piccoli gruppi, no? Diciamo quelli di supporto, sia per chi sta nella parte bassa di questa classifica, sia per le 150 persone che non hanno manco risposto al sondaggio, no? Che magari dormivano negli ultimi 8 giorni, magari hanno studiato matematica e chimica e quindi hanno deciso di dimenticarsi che esisteva anche informatica, che poi è la più facile da passare all'esame, però non per questo va dimenticata, comunque sappiamo che dinamiche ci sono, però questo è il momento di dire colpo di reni, puntiamo al traguardo, ok? Il secondo colpo di reni sarà a gennaio, dove diciamo faremo a tappeto esercizi, però se arrivate a gennaio avendo ancora delle difficoltà di base, sulle cose di base vi perdete totalmente, perché magari cercheremo di fare, mantenere un minimo un po' più veloce per fare un numero maggiore di esercizi, quindi veramente queste, avete finito le prove intermedie delle altre materie? Adesso sì. Allora, adesso in avanti, da qui alle vacanze, chi ha difficoltà secondo me è il momento in cui deve andare a recuperare le difficoltà, in modo di essere pronto per l'ultima settimana di informatica, dopodiché la smetto di farla paternale e torno a spiegare. Però veramente, a margine delle lezioni, sui gruppo o in privato, fatevi vivi e sicuramente cerchiamo di fare il possibile. Ok, veniamo all'argomento di oggi che in realtà, tra virgolette, non ci sarebbe nulla di nuovo in teoria, nel senso che sono tutte conseguenze delle cose che già sappiamo, ma diciamo così sono un modo per utilizzare tabelle. Immaginiamo, noi abbiamo visto le liste, le liste sono essenzialmente delle sequenze unidirezionali, unidimensionali, scusate, di dati, ok? In fila una dopo l'altra, ciascuna col suo indice. Ma se invece dovessimo memorizzare dei dati o gestire dei dati che sono di natura più, in questo caso di bidimensionale, ad esempio, in questo esempio qua c'è un medagliere, un medagliere olimpico con una serie di nazioni e per ciascuna nazione diciamo quante medaglie ha vinto, cioè quante d'oro, quante d'argento, quante di bronze e così via. E quindi qui abbiamo dei numeri che sono qua dentro, questi numeri però non hanno, non possiamo metterli in fila con un indice solo, avremo, posso provare a dire due indici, uno che indica il tipo di squadra e l'altro che indica il tipo di medaglia. Quindi ci immaginiamo questi numeri incasellati in una griglia bidimensionale, una struttura dati che possiamo chiamare anche a matrice, a griglia e poi alla base per tutto il tombino che vi faranno nel secondo periodo didattico sulle matrici nel corso di algebra lineare. È una struttura dati, appunto, bidimensionale in cui con un determinato numero di righe, un determinato numero di colonne o delle celle le quali contengono un valore, per farla semplice questo valore sarà un numero, ma come sappiamo quando parliamo di valore in Python in realtà potrebbe esserci qualunque cosa ridente. Allora, in Python, come nella maggior parte dei linguaggi, non esiste un tipo di dato apposta per creare tabelle bidimensionali, ma la si può costruire combinando, innestando una dentro l'altra delle liste. Quindi la tabella della tabella precedente la posso rappresentare con la struttura dati fatta così. Cosa sto facendo? Allora, guardiamola da lontano. Counts uguale aperta quadra chiusa quadra. Ok, questa è una lista. È una lista di tante cose, vedete che c'è una virgola, 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 virgola. Quindi è una lista di quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementi. Ok? E fin qua. Dopodiché chiediamoci cosa sono questi elementi che ci metto dentro? Cioè, qual è il primo elemento della lista che si chiama counts? Eh, andiamo a vedere com'è il primo elemento. Il primo elemento è questo qui, che a sua volta, aperta quadra, è una lista. In questo caso di tre elementi, i quali a loro volta sono dei numeri. Ok? Quindi io sto creando una lista di otto elementi, ciascuno dei quali a sua volta è una lista. È una lista di liste questa. Non è una lista di numeri, non è una lista di stringhe. È una lista di contenuti elementi che sono a loro volta liste. Lista di liste. E va bene, non c'è nulla di strano. No? Nel senso che è un valore come tutti gli altri una lista. Perché mai non potrebbe essere un elemento di una lista che in realtà sia una lista vera. Nel senso anche essa stessa. Non c'è nulla di strano dal punto di vista della gestione dei dati. Dal punto di vista pratico, noi usiamo questo stratagemma di costruire una lista fatta di liste per poter accedere a quei dati pensando in modo bidimensionale. Noi lo scriviamo così, questa struttura dati. Dentro è memorizzata così. Immaginatevi dei disegnini che saltavano fuori da Python Tutor. Cosa succede? Che noi abbiamo la variabile counts, variabile, che ha un valore di tipo lista. Questa è la variabile di tipo lista, il valore di tipo lista, che contiene 8 elementi, la 0,7. Se mi fermassi qui a questa parte della figura, sarebbe una lista qualunque. Poi la lista ha 8 slot, questi 8 slot corrisponderanno a 8 valori diversi. Possono essere 8 stringhe, 8 numeri, quello che volete. Nella parte destra della figura vado a far vedere quali sono questi 8 valori che saranno dentro counts di 0. Counts di 0 è un riferimento a un valore che sta associato alla prima posizione. Counts di 1 è un riferimento a un altro valore. Allora andiamo a vedere cosa sono questi altri valori. Questi altri valori a loro volta sono delle liste di 3 elementi. qui noi abbiamo creato in qualche modo una lista principale, chiamatela come volete, di primo livello, i cui elementi sono tante liste separate, diciamo di secondo livello. disegnate così, vediamo che quei numerini lì, allora le liste diciamo così sulla parte destra del foglio, concettualmente potete immaginare sparse disordinate sul foglio, cioè sono una indipendente dall'altra, potrebbe essere una qua, una là, una là, una là, ma io le ho disegnate così, anzi l'ho copiato dal libro, il libro lo ha disegnate così, per evidenziare il fatto che questa struttura dati, nella mia immaginazione, può rappresentare dei dati messi a matrice, perché i numeri messi dentro quelle caselle, 0, 3, 0, 0, 0, 1, eccetera, eccetera, se li guardate e sfocate il resto mentalmente, li concentrate solamente sui numeri dentro le caselle, sono questi, messi nello stesso modo, per righe e per colonne, allora mentre noi qua riconosciamo delle righe, riconosciamo delle colonne, riconosciamo la struttura bidimensionale, questa non è una struttura di per sé bidimensionale, ma la possiamo usare e pensare in quel modo, quindi quello che ho chiamato la lista di primo livello, in realtà saranno le righe, della mia struttura bidimensionale, io potrò dire che ho creato una matrice, c'è una lista di liste, che ha otto righe, cioè ha otto elementi, ciascuno dei quali rappresenta una riga dei miei dati, e queste righe a loro volta contengono degli elementi su tre colonne, questo lo interpreto io, lo decido io, non c'è nessuno che mi dice che la lista di primo livello rappresenta le righe oppure le colonne, boh, no, è solo una convenzione, ok? Quindi, tecnicamente io sto creando una lista che contiene liste, mentalmente sto pensando a una matrice a cui posso accedere per righe o per colonne, i cui elementi sono identificati da una copia riga-colonna, che poi materialmente si realizza così, con un dettaglio che se io penso una matrice righe per colonne, il numero di colonne è uguale in tutte le righe, e qua è così, ma in realtà quando io creo dal punto di vista del linguaggio una lista di liste, non c'è nulla che mi vincoli la prima lista ad avere tre elementi e la seconda non averle diciotto. Questa qui, poverina, è una lista, se ci faccio appendere, si allunga. Ok? Quindi sta a noi gestirle in quel modo. Ci saranno magari altri casi in cui possiamo avere delle liste di liste di lunghezza variabile. Pensate alla coda in segreteria o la coda in l'ufficio postale, dove quando arrivate prendete un biglietto e venite aggiunti a una lista di persone che però dipende dallo sportello che avete scelto. Quindi in quel caso ci sarà una lista di sportelli, per le raccomandate, i pacchi, per i bollettini, per i conti correnti, per i clienti business, eccetera, le varie cose che ci sono alla posta, che corrispondono ai bottoncini che promette quando entrate, per quelli che hanno prenotato online. Sono tante file diverse e all'interno di ciascuna fila, quindi immaginate una lista che corrisponde alle varie tipologie di fila, ciascun elemento di questa lista contiene che cosa? Contiene la lista di persone che sono in coda per quella funzionata lì. E queste varie liste, diciamo così, di secondo livello non sono tutte lunghe uguali, crescono e si riducono indipendentemente, arriva uno, va via un altro, eccetera, eccetera. Quindi in generale la struttura di dati a lista di liste è più versatile, la posso usare per molti scopi diversi. In questo caso ci stiamo focalizzando sul caso in cui voglio rappresentare dei dati rettangolari, bidimensionali. E allora mi metto il vincolo in più, dicendo ok, in questo caso le liste di secondo livello sono tutte lunghe uguali e questa lunghezza comune a queste liste di secondo livello la chiamerò la larghezza della tabella, il numero di colonne della tabella. Questo disegno qui è la stessa struttura dati presa dal Python Tutor, dove si vede, se vogliamo, una figura di destra che effettivamente le liste di secondo livello sono sparse nello spazio nella memoria e siamo solo noi che le riconduciamo in modo compatto, diciamo, rettangolare. Allora, come costruisco una tabella? Beh, quella di prima era un caso particolare perché sapevo già tutti i dati e quindi ho scritto una variabile che già mi costruisce quella struttura dati. Ma normalmente io i dati li leggo poco per volta, li acquisisco poco per volta. Allora, il primo passo è costruire una tabella che contiene zero righe e zero colonne, la tabella più piccola che c'è. E in questo caso è una semplice lista. Ricordiamoci, la prima lista è le righe. Quindi, se questa tabella ha zero righe, sarà rappresentata da una lista di zero elementi. Poi dovrò aggiungere uno per uno le righe. Allora, focalizziamoci sull'ultima istruzione di questo blocco di codice. Alla mia tabella, che ho creato come lista vuota, aggiungo degli elementi con un append dentro un ciclo. L'abbiamo sempre fatto. Aggiungo dentro una lista le cose che man mano leggo da tastiero che calcolo. Ma che cosa sono le cose che appendo? Sono a loro volta liste. Adesso, in questo caso, queste liste vengono create in un modo un po' becero, tipo, creo una lista fatta di tanti zeri. Quindi questa istruzione zero per numero di colonne mi farà una lista 0,0,0,0,0, fatta di tanti zeri quanti ho deciso. Però questo è un caso particolare. La cosa interessante è notare che questo row è una lista. Ci sono apparenti di quadri, quindi non può essere altro. E io faccio append a una lista di un'altra lista. Allora, noi, se andiamo a ripassare quello che abbiamo visto sulle tabelle, se io prendo una lista di numeri e faccio append di un singolo numero, questo allunga la lista attuale e ci mette come ultimo elemento un singolo numero. Poi abbiamo visto extend. Extend era un altro metodo sulle liste che, data una lista con un certo numero di elementi e una seconda lista, extend estendeva la prima lista con tutti gli elementi della seconda, quindi allungava la prima lista mettendoci dentro, uno per uno, gli elementi presi dalla seconda. Qui siamo in un caso ancora diverso. Ho fatto un append di una lista. Quindi non l'append di un valore né l'extend di una lista. L'append di una lista mi aggiunge, cosa fa append? Aggiungi un elemento. Uno. Bene. Cos'è questo elemento? Una lista. Quindi sto costruendo una lista il cui primo elemento è una lista. se lo vogliamo vedere interattivamente proviamo un po' a ingrandire questa cosa qui in una REPL qui si chiamava TABLE questa tabella è vuota io posso avere la prima riga che contiene 1, 2, 3 che è un'altra tabella e io posso fare TABLE.APPEND RIGA quindi TABLE è una lista per ora vuota RIGA è una lista che contiene dei numeri alla fine cosa ottengo? Ottengo 1, 2, 3 ma se notate vedete che ci sono le parentesi quadre doppie le parentesi quadre esterne è il numero di righe le parentesi quadre interne sono le colonne della prima riga in questo caso una riga sola se io poi definisco una seconda riga che contenga degli altri valori 7, 8, 9 e faccio TABLE punto UPEND anche della seconda riga avrò la tabella che adesso contiene due righe di tre colonne ciascuna ok? quindi devo fare UPEND perché io aggiungo un singolo valore e poi quel valore lì che a sua volta è un contenitore multiplo e quindi un'altra lista e come accedo a questi elementi una volta che li ho messi dentro? io uso l'indice allora TABLE è questa tabella in questo caso di due righe e tre colonne se scrivo TABLE di 0 cosa ottengo? TABLE di 0 è il primo elemento di TABLE il quale è la lista che rappresenta la prima riga TABLE di 0 è una lista TABLE di 1 è una lista TABLE di 0 rappresenta la lista che contiene i valori della prima riga TABLE di 1 rappresenta ma contiene una lista che rappresenta i valori della seconda riga TABLE di 2 è un errore perché poverino sono due righe quindi la terza non c'è e se io volessi però questo elemento qua centrale il 2 il 2 dov'è? il 2 è nella prima riga seconda colonna allora la prima riga so come si chiama si chiama TABLE di 0 questa espressione qua in Python immaginate la tra parentesi ok? cos'è? è una lista e cosa posso farci su una lista? indicizzarla e quindi il secondo elemento è 1 quindi ho due indicizzazioni una dopo l'altra la prima mi indicizza un elemento delle righe la seconda data la riga che ho scelto mi indicizza la colonna e quindi qua dovrebbe saltare fuori 2 così come se volessi estrarre il 9 il 9 cosa sarà? sarà riga 1 colonna 3 scusa riga 1 c'è la seconda riga colonna 2 c'è la terza colonna e viene fuori il 9 quindi abbiamo una struttura a due livelli TABLE senza niente è la struttura a due livelli TABLE con un indice è una riga di questa struttura TABLE con due indici è un elemento un valore della matrice il primo indice chiaramente viaggia da 0 al numero di righe meno 1 il secondo indice viaggerà da 0 al numero di colonne sempre meno 1 ok? quindi questa scrittura qua a due indici sembra una cosa nuova ma in realtà non è nuova stiamo applicando l'operatore che già conoscevamo di indicazione delle liste semplicemente due volte perché dopo che l'ho applicato una volta il risultato che mi salta fuori a sua volta è un valore di tipo lista poi una volta che abbiamo capito questo possiamo ragionare dicendo che è una struttura datica a due indici righe e colonna ma dentro in realtà abbiamo visto come è fatta e quindi qua vi fa vedere diciamo così come visualizziamo mentalmente questa struttura dati righe e colonne possiamo chiamarli indici di riga e indici di colonna e quindi abbiamo il singolo valore se voglio stampare questi dati vabbè abbiamo visto come si stampano stampo table me li stampa con questa sintassi qua ma se li voglio stampare ordinati incolonnati cosa posso fare? dimmi scusa allora si la domanda è se posso lui ha detto se posso creare tabelle non quadrate in realtà non è esatto nel senso che questo è rettangolare quindi si può fare ma quello che ha chiesto lui è ma posso creare le tabelle in cui in ogni riga ci sia un numero di elementi diverso? tecnicamente sì certo non c'è nessun limite è chiaro che poi devo fare attenzione a gestirlo perché non posso più parlare di colonne in quel caso secondo me però sì posso avere una lista che all'interno ha delle liste che ad esempio facevo prima della coda imposta se io ho quattro coda quattro file e ogni fila magari c'è due persone in una fila e 18 nell'altra sì sì non posso più parlare di numero di colonne perché sarà diciamo di zingrinato sulla destra allora qui c'è un esempio di un ciclo che mi serve ad esempio per stampare il contenuto di questa tabella la stampo per righe quindi ho un ciclo esterno sull'indice i che itera sulle righe sugli indici di riga in questo caso country sarà il numero di nazioni e quindi era un numero noto altrimenti là ci potrei mettere la lunghezza e adesso vediamo la lunghezza di che cosa quindi l'indice i viaggia sulle righe i uguale 0 sarà la prima riga i uguale 1 sarà la seconda riga quando voglio stampare una riga dovrò stampare i singoli elementi di quella riga e quindi mi servirà un secondo ciclo con un secondo indice che va a contare le colonne 0 le medaglie sono 3 quindi sarà 0 1 2 e dentro cosa faccio vado a stampare il singolo elemento sulla riga i colonna j endo uguale niente quindi non vado a capo quindi cosa farà stamperà prima riga 0 colonna 0 poi ciclo di dato chi gira più veloce come indice j gira veloce e i gira lento quindi primo incremento i j j quindi da 0 0 passo a 0 1 i uguale 0 j uguale 1 poi sarà 0 2 poi ho finito di incrementare j perché sono arrivato a 2 riporto j a 0 e incremento i anzi prima incremento i e poi riporto j a 0 e passerò alla riga 1 quindi stamparò 1 0 1 1 1 2 poi 2 0 2 1 2 2 come sempre l'indice esterno va avanti di un gradino quando con l'interno ha finito tutto il giro e con l'interno fa 0 1 2 in questo caso perché le medaglie sono 3 con l'esterno fa 0 1 2 3 4 5 sono le varie nazioni di questo medagliere quindi stampo questi numeri uno a fianco dell'altro senza andare a capo ma mi ricordo di andare a capo ogni volta che ho finito una riga in modo da averli concatenati ben colonnati e sarà quasi sempre così nel senso che quando devo elaborare i dati in una matrice quasi sempre li dovrò fare in un doppio ciclo perché per prendere gli elementi uno per uno per forza devo prima ciclare sulle righe per ogni riga ciclare sulle colonne per poter prendere tutti i singoli elementi quindi sarà abbastanza normale avere una serie di doppi cicli fatti tutti nello stesso modo per stampare ma se dovessimo farci delle operazioni funzionerebbero nello stesso modo noi abbiamo la nostra tabella scritta qua cosa succede se io facessi table prima abbiamo fatto table punto append di riga giusto? immaginiamo di rifarla riga ce l'ho ancora come variabile no? si 789 table punto append di riga cosa otterrei? otterrei una matrice che la riga in più va bene non ho fatto niente ancora finora adesso dimmi cosa succede se faccio riga di zero uguale 99 e lo faccio secondo voi cosa esce fuori da table? allora riga di zero l'unica cosa che so è che prima valeva 7 e fin qua siamo tutti d'accordo dopo di che ho modificato solo riga scusate verifichiamolo riga di zero uguale a 99 se stampo riga ok quindi mat table la modifica si è fermata lì a riga e dentro la tabella invece sono rimasti i valori 789 e 789 oppure i due sette sono diventati 99 oppure uno solo dei sette è diventato 99 l'ultimo che ci ho messo dentro perché quello era la prima immaginiamoselo sempre con le frecce riga uguale 789 ha creato una lista quando io ho scritto table punto append di riga ho creato un alias a quella lista ok e ho messo ho aggiunto in coda la tabella un nuovo elemento che punta a quella lista là e poi ho riaggiunto di nuovo un altro elemento il terzo che punta alla stessa lista quindi se io questa cosa qua la vedessi dentro a python tutor vedrai la lista riga che ha tre frecce che gli arrivano una che arriva dalla variabile riga una che arriva dalla table di uno della seconda riga e l'altra che arriva dalla table di due che puntano alla stessa variabile ha lo stesso valore che ha tre nomi si può chiamare riga si può chiamare table di uno si può chiamare table di due ma è sempre lo stesso valore ok quindi quando io aggiungo una riga in una tabella non sto copiando i valori sto facendo e creando un riferimento alla lista che contiene quei valori lì se poi modifico quella lista non posso dire si o modifico anche i valori della tabella perché non sono altri sono quelli si vede che anche nella tabella è cambiato però aspetta prima ho fatto così e non è capitato nulla di strano prima ho scritto questo riga uguale 789 ricordate che riga l'ho usato come 1,2,3 l'ho messo la prima riga poi ci ho messo 789 ho aggiunto la seconda riga ma la prima non è cambiata cioè se io adesso facessi riga uguale 0,0,0 mi cambia table no non mi cambia table perché scrivendo riga uguale 0,0,0 ho ridefinito la variabile riga facendola puntare a un nuovo valore che non c'entra più niente con quello di prima non ho modificato il valore a cui la variabile riga faceva riferimento che è lo stesso valore in alias sulla tabella ma ho detto adesso troverebbe riga non mi sarebbe più che punti a quella lista lì e punto a una lista nuova aperta quadra ho fatto una lista nuova che qui non è più quella di prima ok facciamo attenzione a questi dettagli che poi saltano fuori dei bacchi se io facessi perché questa stessa cosa succede anche dentro la tabella se io faccio table di 1 scusate 0,1 sì 1,2 uguale 77 cosa sto modificando? table di 1 è questo 0,1,2 che è il secondo elemento di 2 secondo indice mi indica questo 9 qua quindi sto mettendo 77 al posto di questo 9 qua seconda riga terza colonna solo che per errore di come ho costruito questa tabella la riga 1 e la riga 2 in realtà sono alias una rispetto all'altra quindi la stessa riga stesso oggetto stesso valore quindi no non ci piace questo non ci piace se lo vogliamo magari ci piace ma in questo caso era un po' imprevisto quindi dobbiamo fare attenzione quando aggiungiamo le righe alla tabella a fare in modo che il valore che stiamo aggiungendo sia ogni volta diverso e non sia riusato da valori precedenti faccio un esempio semplice una tabella fatta di zeri no? ad esempio avevo visto nel testo che avevo un modo per fare una tabella di zeri io posso avere una tabella di 5 per 5 quindi n uguale a 5 e voglio costruire una tabella inizia vuota e ci costruisco 5 righe quindi io costruisco for i in range di n farò tab.append di una riga e questa riga cos'è? riga uguale uno zero moltiplicato n volte ok? questo è molto simile a quello che c'è sul sulle slide se io poi questa tabella voglio modificarla che ne so metto degli uni sulla diagonale voglio mettere degli uni sulla diagonale quindi sulla zero zero uno uno due due tre tre quattro quattro quindi avrò la posizione i i in range in scusate range sempre n tabella di i i i i chiaramente riga i colonna i quando i vale zero è l'angolo in alto sinistra quando i vale uno è la casella uno uno e così via non è detto che secondo l'indice si debba chiamare j si può chiamare come volete l'importante è che valore numerico abbia in questo caso se la diagonale principale saranno entrambi lo stesso valore uguale uno e vediamo cosa capita vabbè qui la stampa è storta però vedete che questa è la prima piena di zeri la seconda è quella che con tanta fantasia se la riorganizzate visivamente viene fuori la matrice diagonale magari ci possiamo far aiutare da un metodo che non so se abbiamo già un altro si chiama pprint una funzione che si chiama pprint che ha dentro un modulo che si chiama pprint appunto quindi lo importiamo rom pprint import pprint 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 sta per pretty print cioè stampa in modo carino e alla fine stampa le strutture dati un po' complicate cercando di allinearle in modo così euristico cerca di fare una cosa decente un pochino più bella da vedere che non la print è semplice ci aiuta un pochino a decodificare cosa succede quindi occupa più spazio chiaramente però in questo caso la pretty print ha stampato una tabella bidimensionale andando a capo alla fine di ogni riga e quindi ci permette di vedere meglio che è una colonna che è una diagonale vabbè questa è la cosa facile se avessero detto fai una tabella 5x5 con una diagonale pari a 1 tutto il resto pari a 0 è quello che abbiamo fatto adesso io quello che voglio vedere è voglio valutare la riga 7 arriva il mio cugino e mi dice ma guarda che sei uno sprecone si può ottimizzare sta roba qua questo programma perché tu fai n iterazioni e in ogni iterazione la riga 7 fa esattamente lo stesso calcolo cioè la prima iterazione cosa fa la riga 7? crea una sequenza di 5 zeri ok e la seconda iterazione crea una sequenza di 5 zeri e la terza crea una sequenza di 5 zeri ma perché la devi creare ogni volta? è come se dentro un ciclo ci fosse un'espressione complicata da calcolare e questa espressione non dipende dall'indice dell'iterazione non dipende da i quindi che i valga 0 2, 7, 90 quella riga lì fa sempre lo stesso calcolo e lo rifà tante volte no? e allora perché lo facciamo tante volte? facciamo una volta solo all'inizio può venirci questa tentazione diabolica tentazione perché sballa completamente il comportamento del programma perché in questo caso cosa ho fatto? ho creato una lista di riga che contiene 5 zeri che sono 5 colonne e tutte le righe puntano sempre alla stessa lista quindi in realtà io ho una lista di righe che sono in realtà 5 volte la stessa riga ma non la stessa nel senso che ha gli stessi valori che è proprio lei quindi quando io ho modificato qua la cella 0,0 quella cella 0,0 certo che è questa ma è anche questa ma è anche questa ma è anche questa ma è anche questa perché ho l'identità totale tra questi valori e questi valori qui che sono lo stesso valore stampato due volte e messo in due posti diversi quindi ricordiamoci che quando prendo delle variabili e le aggiungo ad altre strutture dati chiediamoci sempre mi serve posso condividere questa variabile creando un alias oppure mi devo creare una copia e allora il motivo per cui questa istruzione va dentro il ciclo è che è vero che creo tante volte una lista di 5 zeri ma mi servono tante liste di 5 zeri una diversa dall'altra non diversa come valore sono sempre 5 zeri ma diversa come oggetto perché poi li voglio li devo e li voglio poter modificare indipendentemente l'uno dall'altro e quindi lo rimettiamo dentro se non lo volessimo rimettere dentro dovremmo dire io qua ci aggiungo non un riferimento a quella lista lì ma una copia conosciamo già diversi modi di fare una copia uno è quello di scrivere list di riga fammi una nuova lista che contiene gli stessi valori dell'altra allora così funziona ho fatto una sola volta diciamo così il calcolo difficile per trovare la riga e ogni volta ho aggiunto la tabella una copia di questa riga quindi mi ha copiato i valori ma creando tante liste diverse che contengono tutti gli stessi valori e quindi queste liste diverse li modifico indipendentemente l'una dall'altra e quindi funziona così se non voglio fare questo posso scrivere riga punto copia la stessa cosa forse è più esplicito più evidente ok faccio una copia oppure la ricalcolo rimetto quella riga lì dentro il ciclo è uguale l'importante è capire cosa succede per essere pronti quando saltano fuori delle sorprese ok quindi bisogna solo fare attenzione che in questa struttura dati qua che noi immaginiamo con una matrice di numeri in realtà è una serie di riferimenti a liste e dobbiamo garantire per poterla immaginare come matrice che le liste siano tutte diverse tra di loro come oggetto nel momento che le creiamo e che siano tutte della stessa lunghezza tutte della stessa lunghezza sempre continuando con la modalità in indovinelli ok quindi il refl ce l'avevo ce l'avevo qua adesso rifacciamo la pulita questa tabella no? quindi facciamo table uguale 1 2 3 7 8 9 ok quindi resettiamo tutto in una situazione stabile senza alias che ci rompono le scatole abbiamo detto se io faccio table punto append di 5 cosa sto facendo? forse sto facendo una cosa non tanto furba no? sto facendo una cosa non tanto furba perché ho una tabella di due righe e la terza riga in realtà non è neanche non è una colonna non è una riga perché non contiene degli elementi quindi devo far attenzione a non aggiungerci un valore se voglio aggiungere devo aggiungere una riga intera ok? quindi facciamolo scusate togliamo questa bruttura e se io facessi table di 0 punto append di 5 sto allungando la prima riga perché table di 0 cos'è? è una lista che abbiamo deciso di incastrare nel primo elemento della lista table della lista esterna e se non una lista ci posso fare qualunque operazione se è possibile fare su una lista pop append find index modificare un elemento estrarre una porzione è una lista semplicemente anziché chiamarsi riga si chiama table di 0 ma una volta che ho scritto table di 0 su questa cosa qua table di 0 immaginate l'altra parentesi come ho detto prima posso fare qualunque cosa che faccio su una qualunque lista allora di nuovo ho fatto una cosa che forse non è tanto furbissima perché adesso ho una lista le cui righe hanno lunghezza diversa magari è quello che volevo fare magari no facciamo attenzione e come faccio a cancellare questo elemento? aiutatemi a cancellare questo 5 così funziona? tutti no perché se no non ve l'avrei chiesto ma perché non funziona? cioè rimuovo sappiamo cosa fa no? prende una lista cerca dentro se trovo un elemento uguale lo cancella pop richiede l'indice remove richiede il valore quindi io sto dicendo da questa tabella cancellami l'elemento 5 il cui valore è 5 e lui non è che piange però mi dice che 5 non c'è come non c'è lì? ma 5 ma 5 non è un elemento di table il metodo remove l'ho chiamato su table table è una lista cosa contiene questa lista? due liste nessuna di questi due valori una prima lista l'altra lista nessuno di questi due è il numero 5 sì a loro volta qualcuna di queste può contenere 5 ma remove non è che può pensare che io metto una cosa diversa remove va a vedere liste table di 0 6,5 e table di 0 risponde no io non sono 5 sono una lista e poi va a chiedere table di 1 tu sei 5 e table di 1 dice ma manco io sono una lista e quindi remove dice il valore che vuoi cancellare non c'è quindi facciamo attenzione se stiamo parlando con la tabella la lista esterna se stiamo parlando con una riga se io facessi table di 0 punto remove allora ci capiamo non sarebbe la cosa furia perché se ci fosse un altro 5 in quella riga mi seguerebbe il primo di 2 e non l'ultimo quindi magari sarebbe meglio fare un po' quindi devo parlare cosa devo modificare qua? la tabella? modificare la tabella significa solo aggiungere o togliere righe io non devo né aggiungere né togliere righe devo modificare una riga e quindi parlo parlo con la riga e la riga cos'è? table di 0 table di 1 table di 2 devo indicizzare una volta la tabella per poter parlare con una delle righe e a quella riga dico senti manda via l'ultimo qual'è l'ultimo? 0, 1, 2, 3 e sono tornato all'associazione di partenza quindi basta solo non perdersi e capire in ogni istante l'espressione che ho scritto a che cosa corrisponde alla lista esterna o a una delle liste interne e poi l'operazione che faccio avverrà lì se io facessi l'ultimo indovinello di questa tornata qua quindi ho provato a fare append senza indici append con un indice append con due indici non funziona perché table è una lista table di 1 è una lista che è la riga table di 1 di 2 è un intero è un numero in questo caso sto parlando con questo e quindi sto dicendo 9.append e 9 dice ma che è? io sono un intero però voglio appendere ok? qui ho una lista qui ho un'altra lista diversa dalla prima perché la prima è la lista generale la seconda è la lista di una riga e qui se arrivo fin qui ho un singolo elemento e potrò fare le operazioni che posso fare con un valore di quel tipo in questo caso un intero potrò fare solo le cose che posso fare sugli interi e appendere tra queste potrò fare la riga quadrata se voglio cosa che non potevo fare su una lista quindi ad ogni pezzettino devo sempre avere chiaro in mente qual è il tipo di dato di questo valore ok queste sono solo diciamo una serie di trappole che poi cerchiamo di evitare dandoci dei pattern di lavoro semplici però quando succedono cose strane dobbiamo sempre ritornare al modello mentale che abbiamo che è la realtà è fatta così anche se noi la pensiamo così quindi dobbiamo mantenere la realtà allineata al nostro modello mentale ecco l'altra operazione invece che ci fa sempre arrabbiare quando c'è da fare con le tabelle è muoverci all'interno della matrice quindi tipicamente io ho un elemento ij e questo elemento è circondante mentre in una lista ho un elemento prima e l'elemento dopo che sono i-1 i-1 e vi ricordate negli esercizi tutte le volte che devo andare a prendere l'elemento prima e l'elemento dopo devo vedere ma sì però se i fosse uguale a 0 oppure se i fosse già l'ultimo elemento ho una serie di casi particolari ecco qui è peggio nel senso che una casella di caselle adiacenti ne ha a seconda di come le vogliamo calcolare 4 oppure 8 nel senso che se calcoliamo solamente quelle sopra, sotto sinistra, destra sono 4 se calcoliamo anche quelle che toccano gli angoli sono 8 e ovviamente le loro coordinate le posso ottenere andando incrementare o decrementare separatamente o congiuntamente il numero di riga e il numero di colonna quindi il numero la primo indice per me è sempre la riga i la riga precedente i meno 1 la riga successiva i più 1 come primo indice il secondo indice è l'indice di colonna j a sinistra fa j meno 1 a destra fa j più 1 quindi pallosissimo perché devo fare 8 casi diversi quando mi va bene nel senso quando sono al centro della tabella perché quando la mia casella i j invece fosse vicino ai bordi della tabella devo fare attenzione perché magari i meno 1 non esiste se sono sulla prima riga i meno 1 non esiste quindi questi qua non ci sono se sono sull'ultima riga i più 1 non esiste questi qua non ci sono se sono sulla prima colonna questo non esiste j meno 1 non esiste se sono sull'ultima colonna j più 1 non esiste e poi la doppia sfiga se sono negli angoli se sono nell'angolo in alto sinistra non esiste né la prima riga né la seconda riga quindi se questo i j fosse l'angolo in alto sinistra ha solo 3 vicini quello da sua destra quello in basso e quello in basso destra tutti questi altri non esistono quindi non solo devo considerare 8 vicini per una singola cella ma devo considerare 9 casi particolari angolo in alto sinistra prima riga ma non nell'angolo angolo in alto destra prima colonna ma non nell'angolo ultima colonna ma non nell'angolo angolo in basso sinistra angolo in basso destra ultima riga ma non nell'angolo e poi tutto il resto in mezzo sono 9 quindi bisogna fare due cose degli if e della pazienza e costanza e attenzione per gestire questi casi qua adesso lo vediamo con degli esempi quindi facciamo sempre attenzione quando si parla di vicini di una cella di capire quali sono se ragioniamo nelle quattro direzioni o nelle otto direzioni e che cosa succede vicino ai bordi vicino al ai confini della tabella stessa ah ecco dico solo più questo poi passiamo all'esercizio e quando devo passare una tabella a una funzione è una lista non capita niente di speciale cioè continua a valere ciò che abbiamo detto quando passiamo una lista a una funzione che passiamo a riferimento si crea un alias bisogna fare attenzione se l'alias lo vogliamo mantenere eccetera eccetera però per il resto poiché la tabella alla fine è una lista che semplicemente capita che abbia dei elementi di tipo lista si può passare tranquillamente una funzione si può ritornare tranquillamente una funzione restituire sul lato l'italiano non si dice ritornare a piacere nostro intanto questo return è allineato male dovete correggerlo rientrarlo un pochino perché è dentro la funzione l'unica differenza è che se io sono nel programma principale come era in questo pezzo di codice qua il programma principale aveva letto queste medaglie quindi sa esattamente quante nazioni ci sono cioè quante righe ha la tabella e quante medaglie ci sono cioè quante colonne ha la tabella però se io passo la tabella delle medaglie a una funzione che magari deve farmi conto di qual è la nazione che ha vinto più medaglie in totale per dire la funzione come fa a sapere quante righe e quante colonne ha la tabella facile il numero di righe della tabella non è altro che è la lunghezza della lista esterna e quindi l'en della tabella il numero di colonne invece sarà la lunghezza di una qualunque delle sue righe nell'ipotesi che sono tutte lunghe uguali che facciamo veramente pensare a una tabella rettangolare e quindi ad esempio il numero di colonne la posso calcolare andando a prendere la prima riga values di 0 e calcolando la lunghezza il numero di elementi nella prima riga quindi il len lo devo chiedere la prima riga se lo chiedo la tabella mi dice il numero di elementi che lei ha in verticale quindi il numero di righe poi andando a prendere una singola riga e vado a vedere la sua lunghezza quindi questo doppio ciclo vedete che fa la somma di tutti i valori di una tabella quindi fa la somma totale di tutti i valori iterando sulle righe e sulle colonne andandosi a scoprire da sola quante righe ci sono e quante colonne ci sono tra l'altro se per caso la tabella avesse un numero di colonne diverso riga per riga cioè una lunghezza di riga diversa basterebbe mettere qua values di i anziché values di 0 in cui ad ogni riga chiedo ma tu quanto sei lunga così iterò esattamente sulla tua lunghezza ma normalmente non consideriamo quei casi se pensiamo a una tabella non pensiamo a questi casi ok allora io su questo vorrei provare a fare un esercizio con voi che è questo campo minato avete presente campo minato il giochino che c'è in windows no? quello in cui è una griglia dove ci sono poi l'hanno chiamato campo fiorito perché era brutto dire che le menine uccidono i bambini eccetera allora hanno cambiato nome il nome della filosofia wok mi piace chiamarlo campo minato perché mette un pochino più di allora campo minato è un gioco classico che si svolge su una griglia quadrata n per n elementi 10 per 10 100 caselle e dietro queste 100 caselle ho delle mine in posizioni ignote quindi io quando clicco su una casella può darsi che non ci sia nessuna mina lì e allora sopravvivo oppure se c'è una mina muoio se non c'è la mina il gioco mi aiuta dicendomi tu non sei morto qui non c'era una mina ma ti dico in questa casella quante mine adiacenti ci sono le 8 le 8 le 8 è chiaro tutto il gioco c'è qualcuno che nella sua tristezza non ha mai giocato no ok quindi ad esempio se io avessi se questa fosse la mia griglia io avessi delle mine diciamo una qui e una qui adesso è una tabella facciamola 4x4 ok quindi così 1,2,3,4 1,2,3,4 e poi magari niente e poi c'è ancora una qua che tenta nell'angolino ok 4x4 dove il puntino vuol dire non c'è la mina lei su 10 c'è la mina ok allora il gioco cosa mi dice se io seleziono una casella su cui non c'è la mina mi dice quante mine vicino adiacenti ad essa ci sono quindi mettiamoli a fianco questi numeri a fianco di questa casella in alto a sinistra quante mine ci sono? una perché è lei a fianco di questa casella quante mine ci sono? due vabbè vabbè poi qui c'è la mina stessa però intorno a sé se vogliessimo calcolarlo a una mina se vogliamo calcolarlo in generale non conto me stesso conto i miei vicini e nell'ultima casella quante ne ho vicine ne ho una poi la seconda riga com'è fatta? la seconda riga è fatta uno uno due uno ditemi se sbaglio la terza riga è fatta dunque due la prima casella ha diacenti a sé questa e quella sotto poi di nuovo due poi uno poi zero giusto? e poi l'ultima riga avrà zero c'è la mina ma intorno a sé non ne ha altre uno zero zero giusto? allora noi vogliamo fare un programmino che come prima cosa ci crea il campo minato quindi crea una matrice decida dove mettere le mine e calcoli quei numerini lì perché senza quei numerini non si può giocare poi in realtà queste cose qua devono rimanere segrete noi li stampiamo per vedere se il programma le calcola tutte una volta che abbiamo calcolato questo ci possiamo costruire il gioco sopra una volta che il programma sa costruire il campo minato che è fatto da queste due informazioni dove sono le mine e per ogni casella quante mine ci sono a 10 cento ok allora qui chiediamoci queste informazioni che io ho scritto qua come esempio il programma le dovrà gestire in qualche modo quindi decidiamo proviamo a decidere un po' come rappresentiamo queste informazioni quindi io dovrò avere il testo mi dice che devo avere n che è un intero che mi rappresenta il lato della matrice del campo di gioco m che è un intero che sarà il numero di mine emesse seminate ok poi devo avere la posizione delle mine quindi come rappresento la posizione delle mine a me vengono in mente due cose due modi per rappresentare la posizione delle mine una vabbè visto che siamo nella lezione sulle tabelle fare una tabella quindi una tabella di n righe e n colonne tabella nel senso di lista di liste come abbiamo veduto finora contenente un puntino oppure una x se vogliamo per convenzione puntino vorrà dire non c'è la mina x vorrà dire c'è la mina quindi questa è una tabella di stringhe non di numeri oppure una tabella di false o true di valori logici c'è o non c'è la mina che poi quando stampo stampo il puntino è x però magari internamente al programma forse è anche più logico dire sì no c'è o non c'è è uguale fate una scelta ci sono altri mi vengono in mente altri due modi di rappresentare questa stessa informazione uno potrebbe essere una lista di coppie di coordinate delle mine cioè io ti dico che la prima mina è nella riga zero colonna tre o colonna due ovviamente righe e colonne le pensiamo sempre da zero quindi io potrei fare una lista che contiene mettiamola qua come esempio che ha tanti elementi quanti sono le mine e per ogni mina ti dico dov'è zero due per dirti dov'è ho bisogno di una listarella di una coppia di numeri poi la seconda mina è riga uno colonna uno la terza riga è la terza mina è riga zero uno due tre perché la quarta colonna zero anziché dire coloriamo tanti quadretti e poi prendiamo tanti quadretti ne coloriamo solamente alcuni io ti dico dove sono quelli da colorare è la stessa informazione rappresentata in un modo completamente diverso ok mentre prima aveva una cosa del tipo mettiamo qua ad esempio lista prima riga stringa di punto stringa di punto stringa di x stringa di punto fine della prima riga virgola seconda riga primo elemento punto stringa di punto secondo elemento x terzo elemento punto quarto elemento punto eccetera eccetera questo qua va ancora avanti mancano ancora due righe questo è un modo secondo modo abbiamo detto la stessa cosa ma con scritto true e false quindi false false true false seconda riga false true false false terza riga eccetera eccetera e questi due modi sono due modi praticamente equivalenti no? semplicemente scelgo due valori distinti per dire c'è o non c'è la mina questi valori possono essere delle stringhe potrebbero essere anche se dei numeri 0 e 1 ok? o vero e falso o 7 e 92 non importa l'importante è che sappia distinguere se c'è o non c'è se uno volesse potrebbe dire 0 dove non c'è la mina oppure 1 2 3 4 5 6 fino a M dove c'è una mina così so anche qual è quella mina mi ricordo il numero di mina ma in realtà al gioco non serve quindi un'informazione che non metto ma in ogni caso sto pensando a una struttura dati bidimensionale di questo genere ok? che riflette il campo di gioco tante righe tante colonne quante ha il campo di gioco quest'altro modo invece è un modo completamente diverso che è una tabella anche questa rettangolare che ha tante righe quante sono le mine non c'entra n il numero dell'emissione del gioco a c'entra m il numero di mine e due colonne che sono le coordinate riga colonna della posizione in cui mi immagino che ci sia la mina l'informazione è la stessa in entrambi i casi sto dicendo dove sono le mine e dove non ci sono a seconda di cosa dovrà fare il programma sarà più comodo l'uno oppure l'altro la struttura oggi facciamo l'esercizio sulle tabelle quindi non prenderemo quest'ultimo però per insistere sul fatto che non c'è un modo solo non solo di scrivere il codice di presentare un algoritmo ma non c'è un modo solo di rappresentare le informazioni e alcuni modi sono più comodi che ne so se io devo posizionare le mine quest'ultimo modo è facilissimo credo di numerando mi faccio append e via nell'altro caso un po' più un macchinore devo creare la tabella tutta vuota poi eccetera eccetera poi devo modificare i valori se devo cercare i vicini magari è più facile invece avere lo bidimensionale sulla matrice che non dire ok ma quali sono i vicini di 1-3 allora 1-3 non c'è ma i suoi vicini quali sono devo andare a vedere se ci sono 0-3 2-3 1-2 1-4 no perché il 4 è fuori e poi insomma è un po' più complicato se vogliamo devo fare uno sforzo in più per capire cosa devo andare a cercare in quella lista per capire quali sono i vicini di un elemento ma poi magari per le tue operazioni è più semplice che ne so ok non forseggiamoci su l'ho pensata così deve essere così tu l'hai pensata così tu l'hai pensata così entrambi riescono comunque a fare il programma magari per alcuni sarà più facile per alcune operazioni e per altre altre difficile dirlo a priori qualcun altro potrebbe anche aver detto ma senti ma che me frega a me del lista di string ciascuna una riga c'è una cosa del tipo senti ma tutto il giorno che mi pare di tabella ma a me non serve io sta roba qua la posso fare così come era fine che non è molto diverso dai primi due casi perché le string a sua volta sono dei contenitori quindi quando voglio andare a vedere se c'è una min o non c'è una posizione avrò il secondo elemento che rappresenta la seconda riga e poi vado a ingizzare il terzo carattere quindi comunque avrò una struttura dati che va a due indici campo di uno mi dà la riga di tre mi dà il singolo carattere quindi dal punto di vista della consultazione non cambia niente dal punto di vista dell'evoluzione cioè modificare i valori è un po' più complicato perché mentre in una tabella qua al posto della x posso mettere punto anzi contrario al posto del punto ci metto la mina e qua metterci un valore dentro una stringa sappiamo che le stringe sono immutabili e quindi per cambiare un valore devo ricostruire un altro che in tutti gli elementi uguali tranne quello che ho cambiato le cose che facevo nelle prime settimane che erano un po' scomodi quindi di nuovo dipende se io questa la creo e non cambia più va anche bene così non cambia nulla se invece la devo far evolvere questa cosa qua quindi calcolare gradualmente i valori averlo come stringhe immutabili non per scatto ciò che stiamo facendo qua è una fase di analisi di quelle che potrebbero essere le strutture dati che supportano il programma così vanno bene tutte io direi oggi sceglierei questa mi sembra più pulita la seconda scelta sarebbe questa colorista però cambia il modo di lavorare il programma lo complica un pochino ok però non ho detto che questa sia quella giusta e le altre si sbagliate poi l'altra cosa ma questa è facile ho bisogno di un'altra struttura dati che si ricordi che calcoli che si ricordi il numero di mine adiacenti ad una mina data una determinata determinata cella allora questo come lo rappresento vabbè qui mi sembra quasi la scelta obbligata una tabella bidimensionale di numeri interi perché lì per ogni riga per ogni colonna devo avere un numero devo avere un numero 1 2 3 4 5 dei vicini e devo averlo per ogni posizione il fatto che questa la potessi considerare come un'opzione è perché uno non mi serviva l'informazione su ogni singola casella ma solamente su quelle che contengono delle mine che sono il numero minore di n quadro e allora dico risparmi un po' di variabili ne faccio anziché farne n quadro ogni singola casella ne faccio solo m che sono le mine ma qua mi servono comunque n quadro e poi non mi serve solamente sapere se c'è o se non c'è ma quanti sono e quindi mi serve un numero intero quindi qua non mi vengono in mente altre alternative furbe non malate di usare una tabella di n per n di interi che poi è quello che avevamo scritto qua ricordate 1 2 1 1 quindi la prima riga sarà 1 2 1 1 virgola seconda riga sarà 1 1 2 1 e così via 2 2 2 1 0 e infine 0 1 0 0 ok? allora noi abbiamo in questo programma come input solo due numeri n e m quindi questa frase sarebbe 4 n il lato della tabella 3 m il numero di mine e il programma deve calcolare queste due cose poi quando si è a calcolare queste ci facciamo giocare il giocatore sopra l'intervallo ci pensate poi lo facciamo insieme grazie a tutti